Giacomo ma questo qui che fungo è che io non l'ho mai visto una cosa del genere lo raccogliamo insieme che dici anche perché questo lo possiamo consumare ecco qua guardate che costola di sedano che è il gambo di questo fungo vedete struttura del cappello a sella a lamine e possiamo mangiarci il gambo il cappello tutto quanto stiamo parlando di funghi del genere elvella che hanno una simbiosi con alcune piante sia latifoglie che conifere crescono soprattutto in primavera ma negli attuni piovosi possiamo incontrarla cosa che invece non fanno le morchelle le spunzole le spugnole come le volete chiamare le classiche spugne le morchelle che crescono soltanto esclusivamente in primavera e mai in autunno sono funghi che vanno consumati previa completa cottura altrimenti possono risultare indigesti e dare dei problemi ma in questo caso un fungo così piccolino così sottile cuoce rapido cuoce presto in padella fungo con un sapore molto molto buono molto aromatico ci sono anche altre specie non c'è solo lui il vela crispa commestibile alla prossima